È stato un capodanno di restrizioni, alcune annunciate e anche con qualche polemica, come ad esempio quella dei divieti ai locali da ballo, discoteche e sale da ballo penalizzate, ma c'è sempre il sospetto dell'abusivismo, delle feste non autorizzate. Un sospetto che Vincenzo Fidone, da professore e da cittadino, nonché da frequentatore di questo tipo di locali, ha avuto in questi giorni. Sì, dunque io mi trovavo il 30 di dicembre a passeggiare su Viale Trieste, ho visto scaricare da un furgoncino con scritta orchestra spettacolo, proveniente da Modena, del materiale appunto per poter ballare, insomma presumo, in questo albergo. E l'albergo era chiuso al pubblico, quindi non c'erano clienti al momento eccetera, il giorno seguente era ancora chiuso e io il giorno seguente allora ho telefonato per sapere, siccome io e la mia signora siamo due ballerini, volevamo sapere se nel caso si fosse ballato, questo noi non lo sapevamo, se potevamo accedervi anche noi. Ho chiamato prima la segreteria del sindaco e mi è stato detto no, sono vietate dall'ordinanza, feste e quant'altro, comunque non sono sicura, le faccio risapere. E mi è stato, sono stato contattato dieci minuti dopo proprio dalla comandante dei vigili urbani di Pesaro, molto gentile, la quale mi ha ribadito questo divieto e mi ha detto, dice se voi e lei e lo suo signore andate, se c'è un controllo potete essere sanzionati. Allora il quesito che io pongo, solo un quesito e nient'altro, dico questa orchestra da ballo, un'orchestra spettacolo, cosa è venuta a fare stando questi divieti per fare musica contemporanea, musica da requiem, musica da camera, musica che non si può ballare, oppure per capire soltanto queste restrizioni, queste, diciamo così, queste ordinanze, che limiti hanno, se ci sono dei limiti entro i quali si può, diciamo così, trovare qualche spazio per poter inserire queste situazioni, oppure sono rigide, come mi è stato detto a me. Infatti ne io ne la mia signora siamo andati poi da nessuna parte per evitare multe e quant'altro. L'ultima cosa che voglio dire è che un altro albergo di Pesaro, al quale io ho telefonato, anche lì, questo non è ubicato su Viale Trieste, ma è un po', diciamo così, sempre sul mare, mi è stato detto che lì c'era proprio un cenone aperto a tutti, quindi non solo ai clienti dell'albergo, con tanto di musica, 130 euro a persona. Noi ovviamente non ci siamo andati perché volevamo solo ballare e non cenare. Il mio quesito è questo, queste ordinanze che ormai vanno avanti, non solo a Pesaro, ma in tutta Italia, sono per tutti, se sono per tutti va bene o se no, se c'è qualche, diciamo così, possibilità di dare un po' di tolleranza, almeno che si sappia che la cosa valga per tutti, perché se ci sono delle regole devono valere per tutti.